Vabbè vabbè Rappeto Ti porto a casa mia Portare a casa mia Ti nascondo Così sarai sicuro E non ti troverai nessuno Vabbè 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 Ancora non hai rientrato Dove ti nascondo Dove 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 Ti posso nascondere Ah Evidenza Pronto Sono Gianni Pettani Volevo parare con Piero Locchi Sì sì Occi Occi Vai Gianni Finalmente La nascondi Marbione Marbione Vieni qua Bella sconosciuta Vieni qua Chi sei? Io mi ti ammettavo Guarda che non capisce Scusa E la straniera La cosa La svedese La notica Se ti dicessi La dove viene Come ti andiamo Sì 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 Andiamo Andiamo Ti presto pure la carne mangiata Tu l'hai mangiata Nicola mangiata Nicola mangiata Nicola mangiata Nicola mangiata Nesta Nico Ma che? Ciao sono il numero uno E finalmente sono arrivata Sì Nicola mangiata La minetta Nicola mangiata La minetta Sì 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 Alle 10 Chi? Alle 10 Chi sa venuti tardi? Alle 10 Chi sa venuti tardi? Alle 10 Chi sa venuti tardi? Alle 10 What? Dove dobbiamo caricare questa roba? Dalla madre di roba. Sempre l'acqua, la capa? La morella. Che dobbiamo caricare? Un lavantino e il boccetto. Un mobile. Ah, rafferatore. Andatevi al negozio Vodafone. Per avere la PlayStation 5 con il massimo della fibra Vodafone.